Ciao a tutti! Oggi apriamo insieme un pacco. Ho fatto il mio primo acquisto alla Renzi Lovers e sono molto curiosa di vedere cosa ne ho messo perché ho detto che ho messo dei campioncini da provare. E giustamente passa la moto appena io accendo il video! Sogliamo le prime cose... E' tutta carta aspettate eh! Aiuto! Ok ok vedo qualcosa. Per prima cosa trovo questo ecco questo se non si era capito è questo sito. Ah e mi ha detto di non fare caso le etichette perché c'è stato un problema ecco quindi allora qua spiegano tutto come usarli. Ottimo. Ah c'è proprio tutto tutto tutto. Ottimo 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 ottimo. E adesso vediamo vi faccio vedere che cosa ho preso. Oh mio Dio. Allora. E io come che faccio? Aspettate che alzata di camera. Magic Crystal ma sono così carine le etichette. Eccola qui. Questa è quella trasparente. Ho preso quella grande da un chilo e sei mi sembra. Di solito sono così. Eccola qui. Eccola qui. Che casino. Quando devo far vedere le cose così giganti è questa la resina trasparente. Poi ho preso anche... Oh mio Dio questa pesa tantissimo ragazzi. Aiuto! Ok. Aspettate eh. Questa. Eccola qui. Ho preso quella da due chili perché sapete io... Questa è quella che praticamente asciuga in pochissimo tempo. Non è trasparente, non è bianca, dovrebbe essere tipo giallina, tipo... Oddio quella... Non lo so. Doveva essere comunque giallina. questa. Poi voglio vedere se in qualche modo riuscirò a colorarla o no. E quindi queste sono le cose che ho acquistato io. Che mi servivano appunto. E adesso vi faccio... Vediamo un po'. Oh mio Dio c'è pieno di roba qui. Allora. Oh che emozione. Vediamo il primo coso. Questo è campione gambe. Oh questa penso sia una gomma siliconica in pasta. E la proverò sicuramente. La proveremo assieme. Farò un video su questa sicuro. Se lo volete. così almeno proviamo tutti i prodotti assieme. Questa è gialla. Wow. Sì sì non vedo l'ora. Poi pesco. Qui abbiamo Stone X. Ah c'è anche il colorama. Io vi adoro. Aspettate che magari tolgo questa che arriva più luce. Oh sì. Cioè la facevano... Wow. Allora Stone X. Andiamo a leggere che cos'è. Aspettate. Perché l'avevo vista. Però non vale dire baggionate. Eccolo. È questa qui. Che serve di fare creazioni con l'effetto... Con il colore... No no no. Non c'è più di niente. Ah è quello per fare le pietre preziose più... Più simili. Cioè fortuna non faccio un insegnante perché le mie spiegazioni fanno davvero schifo. Wow. E proveremo anche questa assieme. con il colorante blu. Adoro. 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 Amo. Adoro. Amo. 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 Ok. Poi pesco eh. Pesco. Aspettate. Questa cos'è? Campione rubber più. Catalizzatore 5%. Che cosa sei? Rubber più. Aspettate eh. Eccolo. Ah è una gomma siliconica liquida da colata. Wow. Sì. Proviamo anche questo assieme. Praticamente farò dei video preparatevi. Sempre che voi lo volete. Ovviamente. E faremo anche questo. Quindi dovrò usare tutto questo con tutto questo. Penso proprio che sia così. Ottimo. Poi aspettate che vedo ancora delle cose. Vai bene qua. Ok. Ultimo ma non di importanza. Questo che cos'è? Diamond Frost. Che cavolo è? Aspettate. Aiuto. Aspettate. Aiuto aiuto. Aiuto. Oddio. Non c'è. Non c'è. Non c'è scritto. Aspettate. Allora. Ok. Questo non l'ho trovato. Però ovviamente andrò sul sito e guarderò che cos'è. E proveremo anche questo se c'è comunque resina. Ah. Forse l'ho letta. Aspettate. Dovrebbe essere la resina che fa... No. Non vorrei dire bagionate. Aspettate. Non voglio dire cavolate. Quindi. Niente. Allora. Queste sono tutte le cose che andremo a provare assieme. E non vedo l'ora. E poi queste qui grosse sono i miei acquisti. Comunque mi serviva la resina. Poi sapete che volevo un po' provare nuove resine. Quindi appunto sono molto curiosa. E niente. Questi sono i miei acquisti. Più queste cose qua che vi ringrazio davvero. Wow. Sono troppo emozionata. So che mi innamorerò di questo. Lo so già. Lo so già. Perché mi piace fare le pietre. E niente. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate dei miei acquisti. Poi penso proprio che qua c'è dentro... Ah. Non vi ho fatto vedere. Quando acquistate la resina c'è dentro la palettina con i guanti. Quindi ottimo. Fanno sempre comodo. E niente. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi ringrazio di aver guardato il mio viso. Vi mando un sacco di bacini. Ciao, ciao, ciao.